L'ex presidente del Consiglio Comunale della città di Agropoli, Massimo Laporta, ufficializza la sua candidatura a sindaco attraverso una nota stampa pubblicata sulla sua pagina Facebook. Di seguito il suo post, carissimi concittadini, l'inaspettata decisione di abbandonare il gruppo Agropoli Oltre da parte di Roberto Mutalipassi, mio carissimo amico e sostenitore di un'esperienza politica durata 15 anni, mi porta a fare una scelta chiara e convinta che sino ad oggi era proiettata sulla sua persona, individuata come nostro potenziale candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative della città di Agropoli e mia precisa volontà continuare il percorso politico che da tempo abbiamo condiviso insieme a tanti amici e sostenitori, un progetto politico ambizioso e costruttivo, Destinazione Agropoli, esso rappresenta l'inizio di un viaggio che con modalità e strumenti diversi ci conduca verso una sola meta, Agropoli, il suo cambiamento nell'ottica dell'innovazione e del miglioramento. Oggi gli amici e i sostenitori, guardando alla mia esperienza ventennale di politica attiva, capacità amministrativa e competenza, mi chiedono di mettermi al servizio della nostra comunità per portare avanti il progetto Destinazione Agropoli. Lo farò candidandomi a sindaco con dedizione, impegno e responsabilità rivolte verso quell'unica importante destinazione, la nostra città, conclude Massimo Laporta.